E' Francesco Ciurnella a prendere il posto di Roberto Tortoioli alla guida di Will Pensionati Perugia-Umbria. Il 63enne perugino è stato infatti eletto all'unanimità dal sesto congresso regionale del sindacato che si è svolto nel capoluogo Umbro. A Ciurnella Tortoioli, eletto tesoriere, lascia una categoria con 12.500 iscritti e alcune indicazioni sulla necessità di una maggiore capacità di comunicazione e coordinamento con le altre sigle sindacali. Costituire la rete nel sindacato, questo è quello che serve oggi senza pensare ad un sindacato unico ma comunque pensare a una solidarietà tra tutte e tre le organizzazioni confederali. Se il sindacato non si mette in rete rischia di trovarsi in grossa difficoltà. Questa è un'indicazione che a me piace in modo particolare perché io credo al collegamento in rete, non solo per quanto concerne la nostra organizzazione ma anche legata a quella che sono le nostre amicizie diciamo e colleghe di avventura e disavventura quali la CISL e la CGL. Quindi avere un collegamento in rete ci facilita sicuramente molto. Ciurnella ha quindi subito tracciato gli obiettivi su cui la nuova segreteria dovrà lavorare. È il lavoro, lo sviluppo, l'occupazione, la tutela del reddito, la legge sulla non autosufficienza dove già noi a livello di Umbri abbiamo fatto tantissimo, la lotta all'evasione fiscale e agli sprechi e ai privilegi, un welfare pubblico e solidare ed estendere la riduzione delle tasse ai pensionati. Quindi abbiamo molti argomenti, molta carne al fuoco come si dice e li vorremmo portare tutti a termine. Al centro dei lavori congressuali anche la politica nazionale su cui è intervenuto il segretario di UILP Alberto Ranges. I pensionati di Nani adesso in questo momento hanno un momento di fiducia, sperano che il governo come è stato già presentato più volte e detto dal premier da Matteo Renzi finalmente dia un riconoscimento di questi famosi 80 euro che sono stati promessi anche dall'anno prossimo per i pensionati. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!